In soggetti che si trovano in condizioni di non poter avere un'aria libera, non poter respirare liberamente come quelli che per qualsiasi motivo si trovano all'interno di un autoveicolo e non possono uscire, il colpo di calore corrisponde a persona che non respira, persona che ha un sudore tale che la mancanza di vento porta a aumentare il calore all'interno del corpo umano in quanto una lieve brezza è sufficiente per eliminare quel velo di sudore e quindi far respirare anche l'interno dell'organismo. Succede che possono essere, a secondo del tempo in cui si trova la persona, anche danneggiata, le cellule cerebrali. Il soggetto inizia con cefalea, crampi, conciano, sì, pelle umida e poi secca e la cosa da fare immediatamente è portare in una posizione, in una situazione ventilata, farlo bere, metterlo in una posizione semiseduta e controllare che non si sono venuti a creare anche dei puntini sulla pelle, spesso sulle gambe, puntini rossi, i quali vanno curati con oggetti di acqua fredda.